www.marizopoli.it, interessante articolo della stampa che dopo vi allego, artista di NFT, non fuggible token, in criptovalute sequestrati 850.000 euro dal comando provinciale della Guardia di Finanza per il nucleo speciale della tutela privacy e frodi tecnologiche. Hanno sequestrato criptovalute per circa 850.000 euro, un noto criptoartist italiano. L'artista degli anni in imposta 2021-2022 abbia sistematicamente omesso di dichiarare i compensi percepiti in criptovalute, pare a circa 3,3 milioni di euro. Qualsiasi attività finanziaria e programmiamo e acquistiamo l'aspetto fiscale va pianificato anche negli aspetti dei non-fuggible token. e quindi per una riflessione su questo, non dice l'articolo chi è questo artista digitale, non vi importa, sarebbe interessante sapere chi è. Alla prossima!